Ben trovati all'appuntamento con Icaro Tg, vediamo insieme i titoli di oggi. Recuperato nel pomeriggio il corpo senza vita del pilota americano precipitato col suo F-16 in Adriatico, è stato identificato dalla divisa. Da cinema a Rudere, salta per il momento il recupero del cinema a storia di Rimini, i negozianti della zona preoccupati anche dal ventilato spostamento del Conad. 200.000 euro per rilanciare il commercio in centro storico a Rimini, ma i negozianti se la prendono con alcune scelte dell'amministrazione. Tiro con l'arco al via in fiera ai campionati nazionali con gli olimpionici azzurri, dal prossimo anno potrebbero arrivare anche altre competizioni tricolore. Come sentito nei titoli è stato ritrovato allora questo pomeriggio, dopo giorni di ricerche, a largo di Pesaro il corpo del giovane capitano americano precipitato in mare col suo F-16 lunedì sera. L'identificazione è stata immediata, il capitano infatti indossava ancora la divisa di volo. Le speranze si sono spente nel primo pomeriggio, intorno alle 14, quando una moto vedetta della guardia costiera di Pesaro ha avvistato un corpo ad alcune miglia dalla costa. L'identificazione è stata immediata perché il capitano Lucas Granter indossava ancora la divisa di volo. Era precipitato in mare col suo F-16 lunedì sera, intorno alle 20 l'ultimo contatto con la torre di controllo e poi il velivolo era scomparso dal radar. Le ricerche erano subito scattate anche nelle acque riminesi. Il giorno dopo in mare erano affiorate tracce di carburante e qualche pezzo in carbonio dell'aereo. Ieri era stato trovato un paracadute a largo di Cervia, poi il casco del pilota. Nell'ampia zona interessata dalle ricerche era arrivato da Taranto anche il cacciamine Vieste. Il ritrovamento era questione di ore. La capitaneria di Porto di Ravenna aveva comunicato di stare utilizzando per le ricerche 15 moto vedette tra guardia costiera, guardia di finanza, carabinieri e polizia. Lo stavano cercando dall'alto anche i compagni della sua stessa squadriglia, a bordo di diversi caccia F-16 della 31 Fighter Wing. 32 anni, una moglie in attesa della loro prima figlia, la cui nascita è attesa tra una decina di giorni. Il giovane capitano americano era a distanza alla base di Aviano. La salma si trova ora nel porto di Pesaro. Nei prossimi giorni verrà sottoposta ad autopsia. Cambiamo adesso argomento. Le ristrettezze economiche in cui versano le pubbliche amministrazioni e i vincoli del patto di stabilità hanno bloccato il progetto di recupero dell'ex cinema Storia di Rimini, Chiuso ormai da anni e oggetto di degrado, ma nella zona preoccupano anche le voci sullo spostamento del Conad. Calcinacci dai soffitti, transenne, scritte sui muri, cemento che si sgretola. Si presenta così oggi l'ex cinema Storia di Rimini, chiuso poco dopo l'apertura nel 2005 della multisala delle Befane. E questo è solo l'esterno. Da tempo ormai il grande atrio interno è coperto alla vista da alcuni pannelli bianchi posizionati sulle porte a vetri. Per l'ex cinema, di proprietà del comune e ceduto in gestione per 80 anni alla società che realizzò il vicino Peppe negli anni 70, si era parlato di progetti di recupero. L'idea dell'ultima giunta Ravaioli era di farne un contenitore culturale, proposta presente anche nel programma del sindaco Gnassi, che lo pensava come un luogo polivalente per la ricerca e la produzione culturale. Il progetto, spiegava l'attuale sindaco in campagna elettorale, è promosso da alcune associazioni culturali del territorio nel processo del piano strategico. Gnassi ipotizzava anche l'abbattimento del ponte che scavalca i due lati di via Euterpe. A bloccare tutto però in questo momento sono le risorse, scarse. Il progetto della passata giunta, ci ha spiegato l'assessore alla cultura Pulini, è stato sospeso perché si trattava di un investimento ingente. Il preventivo era di 180 mila euro. La cifra in realtà non sembra eccessiva, ma ci sono da aggiungere le spese di gestione per una struttura di dimensioni notevoli, capace di ospitare due sale da 900 e 400 posti. In più, questi anni di abbandono lo hanno trasformato in una sorta di carcassa. L'amministrazione non se n'è però dimenticata e, spiega Pulini, come accaduto nei cantieri del Galli o del Fulgor, si sta pensando di organizzare qualche evento estemporaneo anche nell'ex cinema. Intanto a preoccupare i commercianti del Centrausa, ci spiega un esercente che ha preferito però non essere ripreso, e il possibile spostamento del Conad nell'area dell'ex Fiera. Bisognerà vedere dopo cosa viene fatto il posto del Conad, sicuramente sarà un danno per tutto il centro. Visto anche i momenti di crisi, togliere via la parte più importante del centro non è sicuramente preoccupante. Una prospettiva preoccupante per i commercianti, ma non solo. Avere a pochi passi dal Palace due grandi strutture chiuse e fatiscenti, se non proprio degrado, non sarebbe comunque una bella cartolina. E anche il centro storico ha bisogno di azioni concrete per rilanciare il suo commercio. E di oggi la notizia è che il Comune di Rimini ha ottenuto dalla Regione un contributo di 150 mila euro per il progetto sperimentale di valorizzazione commerciale e gestione condivisa del centro storico in una logica di partnership pubblico-privata, attraverso sistemi di gestione unitaria. Al finanziamento regionale il Comune ha aggiunto un proprio contributo di 50 mila euro. Il progetto, che durerà un anno, coinvolge le associazioni di categoria e l'avvio è previsto a giorni. Siamo andati allora a vedere com'è la situazione in centro storico a Rimini e abbiamo parlato con alcuni commercianti. Io penso che il problema della chiusura dei negozi ai Rimini centro siano problemi dovuti al canone di affitto, in quanto gli affitti sono veramente alte per un negozio in centro a Rimini e anche problemi di ordine pubblico. Gli affitti ovviamente sono troppo alti per il momento in cui stiamo vivendo e poi la politica, secondo me, sbagliata del Comune negli anni passati quando hanno voluto portare fuori con i centri commerciali, dove là possono girare i giorni quando qui il traffico è limitato, poi i servizi non ci sono, tanti parcheggi. Ha fatto questa politica sbagliata che negli anni 70 invece era una politica che è stata fatta per portare gente nel centro storico che era abbandonato e per valorizzarlo. Hanno agevolato questi Iper anche come strade, non hanno aiutato il centro perché i problemi tanto li sappiamo tutti, i parcheggi, le strade sempre trafficate, anche gli affitti, però è anche una gestione proprio di amministrazione della città che è un po' scadente, anche come tenuta, la sporcizia. Le vie, diciamo, le vie secondarie poi sono proprio all'abbandono. Abbiamo sempre comunque controlli dei vigili, a volte anche la finanza, che faranno anche il suo lavoro, però anche noi insomma facciamo il nostro, non è che, non siamo, siamo gente che lavora, che cerca di fare il suo lavoro al meglio e quindi vederci anche tutti i giorni. In un giorno io ho avuto finanza la mattina per un controllo normale, vabbè, vigili per il controllo dei saldi, poi vabbè abbiamo avuto anche un altro piccolo problema per una festa che avevamo fatto, che poi si è risolta per carità, però comunque si è sempre tartassata. È stata una festa fatta l'estate scorsa, una hit parade della moda, un qualcosa di contemporaneo dove qualche negozio che aveva insomma un prodotto interessante, ha messo il DJ, insomma ha fatto la sua azione, insomma, artistica. Ovviamente questo è un centro che non c'è mai nulla, quindi quando viene organizzato un qualcosa di interessante, viene così, viene poi massacrato poi da una multa che ti arriva caduta dalle nuvole. Ci spostiamo a Riccione dove c'è stato oggi l'incontro tra amministrazione e albergatori sulla tassa di soggiorno. L'obiettivo è sostenere le voci di bilancio legate al turismo alle prese con i tagli dei trasferimenti, 350 mila euro in meno lo scorso anno, tamponati con l'IMU per le strutture ricettive al 10,6 per mille, meno un milione e mezzo di euro previsto nel 2013 per un totale di 7 milioni di tagli dal 2009 ad oggi. Se per il sindaco l'imposta è un modo per mantenere i servizi senza chiedere altri sacrifici ai riccionesi, per gli albergatori si tratta di una scelta penalizzante per il turismo, una scelta che per il momento aveva fatto solo il comune di Rimini. La categoria al momento sceglie il silenzio in attesa di vedere i numeri del bilancio e infatti dicono dobbiamo capire se ci sono economie da mettere in campo, questo è il commento del presidente Bianchini. L'unico dato confortante per l'Aia riccionese è la possibilità del calo di un punto dell'IMU. Dalle proiezioni prudenziali fatte dal comune, gli introiti dell'imposta di soggiorno si aggirebbero sui 2 milioni 300 mila euro. Se fossero di più, sottolinea Pironi, andrebbero comunque in direzione del turismo. Torniamo a Rimini. Organizzato dai consiglieri di maggioranza, si è tenuto ieri sera un incontro sul biodigestore di Cabaldacci in un ristorante della zona di Covignano. Un incontro a cui hanno partecipato l'amministratore delegato di Erambiente Galli e gli assessori all'ambiente Visintin del comune e Sabba della provincia, ma la cui comunicazione è passata un po' sotto silenzio. L'incontro ha avuto origine con un volantino che è stato messo nella buchetta delle poste questa domenica, un volantino dall'apparenza diciamo anonima, diciamo non aveva carta intestata e niente, nel quale veniva detto appunto che i consiglieri di maggioranza avevano organizzato questo incontro con gli assessori provinciali e comunali e una scheda di tecnici. Dopotutto il clamore mediatico sul biodigestore fa un po' strano vedere come un incontro con tanto di politici e di esperti sia stato così poco pubblicizzato, almeno è della cosa più importante la comunicazione e arrivati ai diretti interessati. I risera diversi residenti della zona di Covignano si sono presentati all'appuntamento. Tre ore di confronto serrato in cui agli esperti si sono chieste rassicurazioni sull'impianto. Le maggiori critiche che si sono avute da parte della cittadinanza coinvolgono proprio la mancata partecipazione della popolazione al processo decisionale. Diciamo tutti sono stati coerenti nel rassicurare dal punto di vista sanitario, però sono emerse anche contraddizioni sui processi che caratterizzano l'impianto. Per esempio l'assessore Sabba ha dato dei numeri riguardo la frazione umida che la provincia di Rimini è in grado di produrre, però l'impianto per poter girare ha bisogno di molto più frazione umida che la provincia di Rimini non è in grado di fornire, di produrre. Allora questa sostanza organica deve essere reperita fuori provincia. È sicuro che questo genere di impianti ha un impatto. Noi si vorrebbe sapere esattamente quale è l'impatto, seppur minimo, perché dire che questi due cogeneratori immettono nell'aria vapore non è corretto assolutamente, è un'informazione sbagliata. Intanto Aptown, il comitato che si è costituito in zona Cabaldaccia, aspetta il confronto con il sindaco Gnassi dopo l'incontro saltato qualche settimana fa. L'appuntamento è fissato per il 6 febbraio in comune. Il comitato ha chiesto al primo cittadino, ma ancora non ha avuto risposta di spostarlo a Covignano per permettere a tutti gli interessati, e non solo ad una delegazione, di potersi confrontare con lui. Siamo adesso alla politica, questa sera alle 21.15. Torna su Icaro TV l'appuntamento con Metropolis, speciale elezioni in studio con Francesco Cavalli, i candidati Marco Rossi di Fare per fermare il declino e Aleardo Maria Cingolani di Io amo l'Italia. Sentiamo un passaggio dei loro interventi. Che cosa caratterizza particolarmente e in modo specifico la vostra proposta politica, la proposta politica della vostra lista? La nostra lista, Fare per fermare il declino, vuole conseguire due obiettivi con le prossime elezioni politiche. Il primo è mandare a casa la classe dirigente, in particolare politica, indegna e inadeguata, che ha portato l'Italia sull'orlo del fallimento. Questo, se volete, è una componente di protesta. Noi però abbiamo anche una seconda componente, che è la componente di proposta. Noi vogliamo radicare, nel prossimo Parlamento, nelle istituzioni, nel voto e nella consapevolezza del popolo italiano, le idee che possono essere per l'Italia il seme della rinascita. E fa in modo che finalmente, entro pochi mesi, speriamo si cominci a fare qualcosa che serve. Siamo per la sovranità monetaria, quindi siamo contro questa schiavitù dell'euro. Siamo per un federalismo dei comuni, addirittura. Le tasse devono rimanere nel nostro ambiente comunale, territoriale. Siamo per una Repubblica presidenziale. Altra cosa che noi vogliamo è un controllo della realtà delle moschee, dell'islamico. Siamo per un territorio pulito, per un territorio valorizzato, per una facilità della scuola. Quindi tutti quanti hanno diritto ad andare a scuola e ad essere protagonisti della loro vita. Questo è quello che noi vogliamo realizzare. E questa mattina Forza Nuova ha presentato le liste dei candidati alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio. Tra i 18 punti del programma, anche l'abolizione delle regioni e il ritorno ad una moneta nazionale. Riforma dell'istruzione della giustizia, ritorno ad una moneta nazionale, abolizione delle regioni. Sono alcuni dei 18 punti indicati da Forza Nuova nel suo programma in vista delle prossime elezioni. Partendo dal taglio delle spese, della politica e dall'abrogazione del finanziamento ai partiti nel programma, viene sottolineata anche la necessità dell'invio dell'esercito nei territori occupati dalla criminalità organizzata, fino ad arrivare al blocco immediato dell'immigrazione al rilancio dell'agricoltura, sottolineando l'importanza dell'autonomia locale. No alle regioni, noi diciamo sia alle province, espressioni dell'Italia vera, dell'Italia profonda, dell'Italia che sempre ha visto nel municipio e nella sua naturale estensione territoriale la propria dimensione. Terzo punto, un diverso assetto economico-monetario. L'Italia deve ricominciare a riappropriarsi di ciò che è suo, di quel bene sociale che è il credito e che è la missione della moneta. La libertà economica, la libertà monetaria è il presupposto fondamentale della libertà politica. Vorrei fare anche una battuta, visto che qui siamo a Rimini, non credo che Rimini sarà molto contento di ciò che ha proposto Monti circa un mese solo di vacanza. Questo dimostra che anche i professori dicono tantissime stupidaggini e ne hanno fatte tanti in questi ultimi 12 mesi. E siamo adesso alle notizie di tutto in 100 secondi. Dopo le polemiche innescate da Grillo, il sindaco Gnassi cerca di fare chiarezza in tema di fogne e scarichi attraverso la sua pagina Facebook. Dopo quello di Rimini, Isola Spiega, partiranno in primavera i cantieri per il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e per la dorsale Nord. Nel 2013 saranno realizzate anche la vasca di laminazione dell'ospedale, la riconversione del depuratore Rimini-Marecchiese e la separazione, per stralci, delle reti fognarie di Rimini Nord. Per la zona sud sarà usata una parte dei 7,5 milioni ottenuti con il piano città. Sono stati identificati e denunciati per rapina in concorso e lesioni i tre, due napoletani e un salernitano, che il 7 gennaio, nella discoteca Classic di Rimini, rapinarono del Rolex un 24enne di Forlì dopo averlo picchiato in bagno. Il ragazzo era stato seduto da una 28enne napoletana, complice della banda. Tutti poco più che trentenni sono stati riconosciuti dalla vittima. Uno dei napoletani era già stato arrestato per furto di un Rolex. Un napoletano di 56 anni senza fissa dimora aveva appeso la propria biancheria ad asciugare nella sala d'attesa del pronto soccorso di Rimini, stendendo un filo da termosifone a termosifone. Quando l'agente gli ha fatto notare la violazione commessa, lui ha detto che se i panni non si fossero asciugati non si sarebbe potuto muovere. E' stato raggiunto da foglio di via. In ospedale sono stati sorpresi invece una 44enne tedesca residente a Ravenna e un 47enne foggiano. Bivaccavano al quarto piano Scala B e sono stati denunciati per invasione di edificio pubblico e lesioni a pubblico ufficiale. Il 16 gennaio aggredirono due guardie giurate nei sotterranei e fuggirono. Nessun reperto storico nel cantiere del TRC di Rimini, precisa l'agenzia mobilità. I funzionari della sovrintendenza hanno spiegato che si tratta di resti della demolizione della vecchia rampa di scarico delle ferrovie dello Stato per le vetture. Seconda edizione del premio Stefano Benassi organizzato da Università Aperta, un concorso internazionale di narrativa che prende ispirazione dall'idea di valore sociale della scrittura del professore di sociologia scomparso prematuramente. Termine del bando per l'iscrizione il 20 aprile. Stefano Benassi era un teorico della scrittura popolare e il premio letterario a lui dedicato si rivolge proprio a chi scrive per il piacere di scrivere senza per forza voler intraprendere la carriera di scrittore. La seconda edizione del concorso mette in palio 500 euro per il primo classificato, 300 al secondo e 200 al terzo. La scrittura popolare era l'idea di Stefano Benassi a cui è intitolato questo premio e perché pensiamo che oggi ci sia un po' questa rincorsa al voler diventare scrittori mentre invece a noi piace l'idea proprio del piacere di scrivere. La matrice popolare è la scrittura, lo scrivere proprio per il desiderio di avere qualcosa da dire ma non necessariamente grandi messaggi da far leggere a tutti. Per partecipare basta essere maggiorenni e inviare a Università Aperta un racconto inedito a tema libero di massimo 5.000 battute. Sono stati oltre 100 gli aspiranti scrittori la scorsa edizione, l'intenzione degli organizzatori per quest'anno è quella di alzare il livello con una particolare attenzione oltre confine. La prima edizione è stato un grande successo di partecipanti, noi sono molto contento di questo, vuol dire che l'idea è piaciuta. Vorremmo degli appassionati ancora più bravi, della gente che attraverso il racconto ci faccia scoprire una lingua nuova. Non a caso io sto spingendo molto sull'idea del premio internazionale inteso come possibilità di far esprimere persone che scrivono in italiano anche in altre aree del mondo dove comunque si parla italiano. Siamo alla pagina sportiva, prima alcune notizie di calcio-mercato. Infatti il Sant'Arcangelo ha chiuso il mercato appunto di gennaio con l'acquisto di Sorin Radoi. Si tratta di un ritorno. Radoi conclude così la sua esperienza a Pavia dove invece ritorna Andrea Parodi. Sempre per quanto riguarda la squadra clementina sono arrivati i difensori Quaggiotto e Bamonte. Ceduti invece a titolo definitivo il centrocampista Alessandro Saporetti e il difensore Thomas Campana che è passato al Forlì. Per quanto riguarda il Bellaria dal Cesena arriva Riccardo Martinelli, difensore classe 91 che approda nuovamente in biancazzurro con la formula del prestito. Parliamo anche di campionati tricolore. Sono infatti partiti oggi in fiera i quarantesimi campionati di tiro con l'Aroco che vedranno impegnati gli olimpionici azzurri. Dal prossimo anno poi l'idea è quella di svolgere in contemporanea al tiro anche altri campionati nazionali. È una regione la nostra dove il tiro con l'arco è una disciplina sportiva estremamente praticata. Questa manifestazione è diciamo che a conclusione di un anno dove la nostra federazione ci ha onorato chiaramente iniziando sempre qui a Rimini con la bella manifestazione di Sport Day e i campionati italiani disabili di Zola Predosa. Questa è la conclusione direi di un bell'anno agonistico federale qui in Emilia Romagna. Già la prossima settimana gli saranno segnati per altri due anni consecutivi i campionati qui a Rimini quindi ormai possiamo dire che la fiera di Rimini è diventata la patria indoor da tiro con l'arco. L'iniziativa sta andando veramente bene mi auguro che poi possa proseguire negli anni perché il mio intendimento premesso che non è che sono proprietario o socio di fiera di Rimini è che ho trovato qui molta disponibilità e quindi tenteremo insieme anche di portare l'anno prossimo altre federazioni a fare in contemporanea altri altri campionati perché sarebbe un bel successo vedere contemporaneamente in padiglioni diversi oltre al tiro con l'arco che ormai qui è di casa anche altre federazioni. E noi siamo arrivati in conclusione, non mi resta che augurare di buona serata. Grazie. Grazie.